Ben trovati cari amici di Globus Television da Antonella Guglielmino. Oggi nuova puntata di Faccia a Faccia. Sono molto emozionata. Qui con me c'è un personaggio noto, è stato considerato medievale, un po' talebbano al contrario, insomma molto di più. Ve lo presento subito. Qui con me c'è Mario Di Nolfi, grazie di essere qui con me. Salve Antonella, eccomi qua. Vicino a lui c'è il coordinatore nazionale del Movimento Popolo della Famiglia. Nicola Di Matteo, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per questo spedità meraviglioso. Mario, o capiamo o moriamo, come nasce? Ma in un'estate in cui ho visto accadere cose che mi preoccupavano molto dall'assalto degli attentati islamici, vi ricordate l'impatto che ebbe su di noi anche l'attentato di Barcellona. Quante volte abbiamo camminato sulle Ramblas? Ecco, lì è arrivato un pullman, un camion, ha ucciso molte persone, tra cui un bambino. C'era questa immagine del bambino steso in mezzo alle Ramblas. Lì ho capito che andava fatto un lavoro in più di spiegazione del rischio che stavamo correndo. Un rischio che è innanzitutto un rischio interno alla nostra cultura, ai nostri valori che stiamo ammainando completamente. L'Italia è un paese che non fa più figli. L'Italia è un paese che ha fatto come ultima legge quella sul fine vita, cioè sulla morte per eliminare i propri malati terminali. L'Italia è un paese che sembra voler essere consegnato a una cultura necrofila. La cosa mi ha preoccupato molto perché nel contempo c'è un assalto di quelli che vogliono ucciderci. Hanno ucciso migliaia di persone dall'11 settembre in poi con una serie di attentati. Sono talmente tanti che ci siamo dimenticati. L'ultimo ieri a Melbourne. Ieri a Melbourne 14 persone ancora una volta travolte da un'auto, anche se lì si dice che non ci sia il coinvolgimento della matrice islamica, ma comunque c'è una cultura che evidentemente vuole consegnarci a questa destinazione che è la morte. Io continuo a pensare che c'è una destinazione dovuta alla nostra razionalità, cioè capire quello che accade per fare il bene e combattere il male. Se noi lavoriamo sulla razionalità, cioè se capiamo i fenomeni, se capiamo le dinamiche, riusciamo a ostacolare la cultura della morte. E quindi è uscito questo libro che si chiama O capiamo o moriamo, che contiene peraltro al suo interno 207 pagine, una proposta per l'Italia per uscire da questa condizione e la proposta si chiama Popolo della famiglia, una realtà nuova che si candida alle prossime elezioni politiche e che cerca di attirare su un programma costruito attorno alla cultura della vita, fondato sull'idea della maternità, fondato sul reddito di maternità, sul quotiente familiare, sull'idea che la famiglia in Italia è l'elemento centrale della nostra società, un percorso che speriamo possa essere interessante per tutta l'Italia ma particolarmente per la Sicilia. Io adesso sto correndo attraversando tutte le province di questa vostra meravigliosa regione e adesso sono da due giorni fermo a Catania ma è tutta incredibilmente intessuta in realtà di rapporto familiare, di forza delle tradizioni, di forza della nostra radice cristiana. Tutto questo penso sia davvero un'immagine di come la Sicilia può essere modello, laboratorio e modello di un'Italia che sa resistere nelle difficoltà che esistono ma che vanno affrontate con la forza della nostra cultura, con la forza della nostra tradizione, con la forza anche dell'ispirazione religiosa che deriva da una tradizione così forte che rappresenta un modello su cui molte famiglie si sono ispirate per secoli se non per millenni. Ecco qui io ritrovo la bellezza della possibilità di un futuro imperniato sulla famiglia e anche i rischi che se abbandoniamo questo terreno possa avanzare un male che anche in questa terra vediamo che è fatto di irrazionalità, che è fatto di scelte sbagliate, di scelte di morte che allora consegnano, io sono stupefatto, vengo dalla lettura proprio in questi giorni dei giornali, la vicenda del baregliere catanese che uccide per 300 euro fa capire come poco valga la vita se noi ci consegniamo a una cultura della morte, perché allora veramente vale 300 euro, vale niente, allora noi invece dobbiamo capire quanto importante sia la cultura della vita, che la vita è inestimabile, non a prezzo, deriva dalla famiglia, deriva sempre da una bella donna che dà al mondo un figlio, perché è sempre questo l'inizio di tutto ciò, non li facciamo più i figli, non investiamo più sulla famiglia, facciamo tutto il contrario di quello che andrebbe fatto e allora gli ho detto, o capiamo o moriamo, ho scritto un libro, ho fatto una proposta al paese, mi prendo quegli insulti, ogni tanto mi arrivano ma io orgogliosamente ripeto che sono forse figlio di quel medioevo che poi tanto buio non era perché era il tempo in cui l'Italia rischiarava il mondo con la cultura che derivava dalle sue abbazie, dal monachesimo, dalla tradizione cristiana, dalle chiese, dagli ospedali inventati dalla chiesa, dalla battaglia che tutti facevano per la vita, oggi e per essere anche persone serie e corrette che avevano quindi aspirazione alla vita eterna. Io penso che continua ad essere questo un modello su cui ispirarsi per il proseguo della propria esistenza. Tu parlavi della famiglia, la famiglia è il luco centrale, ma ahimè nel passato sono state fatte delle politiche sbagliate per quanto riguarda il lavoro, per cui oggi nessuno si sposa, non fa famiglia e soprattutto non fa figli. Certo, nel passato è nel presente. Se tu fai sul bonus bebè l'unico intervento che fai è lo dimezzi, perché l'ultima finanziaria aveva solo quell'intervento, l'ha dimezzato, è evidente che tu hai scelto di non investire sulla famiglia. Non lo fai da decenni ormai, ma la famiglia continua a essere il luogo dove si fa carico di tutto, dove si fa carico del figlio disoccupato, con la disoccupazione che in questa regione tocca picchi di disoccupazione giovanile che arrivano fino al 50%, e chi fa il giovane che non va a lavorare, o viene attratto da sistemi malavitosi, che è la cosa molto preoccupante, oppure è mantenuto dal sistema famiglia, perché questo è ormai ciò che abbiamo. Se non investi sulla famiglia, noi per esempio abbiamo una proposta che si chiama reddito di maternità, alla mamma, a una giovane mamma che vuole fare la mamma, che oggi mi dice, io non lo metto al mondo il figlio perché non ho niente, noi proponiamo 1000 euro al mese, 1000 euro al mese, se fa la mamma. E io penso che questa sia una rivoluzione clamorosa, costerebbe pochissimo. Alle banche nell'ultimo anno, Montepaschisiene, a banche Etruria, Cari Marche, Cassa di Ferrara, Cari Rieti, banche venete, hanno dato 20 miliardi di euro. Col 5% di quei soldi puoi fare il reddito di maternità per tutte le giovani mamme d'Italia. Col 5%. Pensate che bello poter dire a una ragazza di 20 anni, io ho avuto la fortuna di diventare papà a 20 anni, e quando è successo ovviamente ho tremato, ho pensato adesso come faccio? Sono andato a fare il cameriere, volevo fare il giornalista e lo scrittore, sono andato a fare il cameriere per sostenere quella bambina che è nata, ma devo dire che tutto quello che è accaduto dopo, anche la piccola fortuna professionale che ho avuto, è dovuta al fatto che io mi sono responsabilizzato a 20 anni, e ho imparato a far quadrare i conti, ho imparato a far sì che sì i miei sogni fossero importanti, ma fosse importante anche la concretezza del prodotto reddito. Allora facciamo questo, investiamo su questo, diciamo a una ragazza di 20 anni, 22 anni, 25 anni, 28 anni, che lo Stato non la lascia sola, che se nasce questo bambino lei è premiata e ha un reddito, che si chiama reddito di maternità, che la mette in condizione di fare la mamma, e vedrete come fioriranno di nuovo le famiglie in questo Paese. Costa niente, costa neanche un miliardo di euro cominciare a fare questo tipo di provvedimento, noi lo teniamo come prima proposta della nostra campagna elettorale, con l'obiettivo, se dovessimo essere eletti in Parlamento, soprando il 3% di sbarramento, anche qui in Sicilia dove Nicola Di Matteo è il nostro candidato di punta, insieme a Giovanna Arminio, insieme a tante donne che sono protagoniste di questo percorso, portare tante persone in Parlamento per dire che il primo provvedimento di legge che viene approvato se noi entriamo in Parlamento è il decreto legge, non un disegno di legge, un decreto legge che la Costituzione sancisce essere un decreto perché c'è necessità ed urgenza e c'è necessità ed urgenza di avere figli in questo Paese, un decreto legge che istituisce il reddito di maternità. Sarebbe una rivoluzione per la vita, per una volta, e non pensando sempre a una cultura di morte che pensa al fine vita, quando invece dovremmo pensare a come si nasce, come si vive, come si cresce, come si investe per far sì che una famiglia non arrivi a fine mese senza avere più i soldi. Ma se tu inneschi quel meccanismo, se una famiglia ha 1000 euro in più, se fiscalmente il quotientio familiare abbatte le tasse di una famiglia, sai che succede? Che ci sono più soldi in tasca, vengono spesi di più e l'economia riparte e l'economia finalmente attraverso i consumi riprende un suo ciclo positivo. Altrimenti rimaniamo l'Italietta 26esima in Europa su 27 Paesi rispetto alla crescita perché? Perché non ci sono soldi, non c'è lavoro, non ci sono soldi, non c'è investimento sulla famiglia e quindi l'Italia deperisce, muore. O capiamo queste cose o moriamo. E noi non vogliamo morire. No, non vogliamo, l'istinto di sopravvivenza dice questo. Sicuramente sì. Nicola, perché bisogna votare Popolo della Famiglia? Oltre quello che ha detto Mario. Allora, bisogna votare Popolo della Famiglia perché è l'unico movimento alternativo, è l'unico movimento autonomo che ha fatto una scelta di seguire e di parlare con tutte le persone affinché si possa essere nuovi. Nuovi è una politica ormai abusoleta, nuova è una politica che va avanti, penso almeno da 40 anni, ma che è la stessa. Cambiano, come dire, la musica ma non i musicanti e questa è una cosa che a me ha dato sempre fastidio, quindi impegno in prima persona affinché possa avvenire questo, un cambiamento sia per l'Italia e per la nostra nazione e quindi ripartire dalla famiglia e quindi ripartire da una nuova politica netta, chiara e autonoma e questa per noi è molto fondamentale e due fa ripartire una terra bella come la Sicilia perché una terra così non può essere ancora abbandonata a se stessa, non può essere che ha ancora problemi di famiglia, non può essere che tutti i giovani stanno scappando da questa terra perché ho tanti contatti anche perché io sono sposato qui in Sicilia, mia moglie della provincia di Agrigento, pertanto ecco io quello che veramente dico, votare il povero la famiglia è una certezza oggi, votare il povero la famiglia è per un cambiamento netto e per un cambiamento che tutti potremmo veramente dire che abbiamo fatto qualcosa di diverso alle prossime elezioni del 2018. Mario tu ieri hai detto una cosa che mi ha colpito particolarmente, a Bolzano avete avuto un buon risultato ma anche ad Avola, cioè dal Manzanarra a Reno diceva qualcuno. E' anche interessante il fatto che poi la nostra eletta di Bolzano che è appunto Giovanni Arminio si è trasferita in Sicilia quindi abbiamo questo tipo di contatto, noi abbiamo fatto il primo eletto subito con Giovanni Arminio due anni fa a Bolzano e ad Avola pochi mesi fa abbiamo raggiunto l'11% dei consensi quindi un importante traguardo superando molti partiti storici e nella nostra prima uscita in terra siciliana abbiamo sperimentato vedere cosa succedeva in un importante comune di decine e decine di migliaia di abitanti abbiamo raggiunto questo risultato così rilevante, abbiamo anche punte più alte in Emilia Romagna, in Lombardia dove abbiamo sfiorato in alcuni comuni il 15% dei voti quindi vuol dire che la proposta politica esattamente come dicevi tu, dalle Alpi alle Piramidi diciamo così è una proposta politica che attrae, che ha una sua razionalità, che spiega, l'abbiamo visto anche ieri questa bellissima iniziativa che abbiamo fatto alle Ciminiere qui a Catania, c'è la partecipazione di personaggi, di persone, di famiglie, di realtà che venivano da segmenti diversi, anche da appartenenze diverse, fa capire che è un messaggio trasversale quello che stiamo lanciando, capace di parlare ai cuori penso prima di tutto, dei siciliani e degli italiani tutti che a ogni latitudine in questo paese ci stanno dando un sostegno che va al di là delle nostre forze, noi siamo nati come piccolissimo gruppo, pochissimi amici che sul terrazzo di casa mia c'era anche Nicola, lì ci siamo conosciuti, convocarono il primo Family Day nel 2015, ormai sembrano passati molti anni ma in realtà sono passati tre anni e mezzo e riempimmo Piazza San Giovanni convocandola a due anni e mezzo giusto? Due anni e mezzo Convocando Piazza San Giovanni il 2 giugno e riempendola il 20 giugno, quindi in 18 giorni noi facciamo una manifestazione con una partecipazione incredibile, la replicammo al Circo Massimo riempendo anche il Circo Massimo, io penso davvero che qui in Sicilia sia tempo di riconoscere nel popolo della famiglia e nell'attività che facciamo di elaborazione delle nostre idee che noi non proponiamo semplicemente l'appartenenza a un simbolo, noi elaboriamo idee quotidianamente relative all'attualità, abbiamo un piccolo quotidiano che si chiama La Croce che dirigo che online fa questo tipo di lavoro tutti i giorni, scriviamo libri, un'attività voglio dire anche di riflessione intellettuale che la politica sembra aver abbandonato, io non riesco non ricordo delle riflessioni organiche di quelli che saranno i miei rivali alle prossime elezioni, penso a cosa dice Berlusconi o Renzi, non leggo 207 pagine di programma politico reale sui fatti reali, sulle necessità reali delle persone, leggo un po' di slogan, tante litigate per il potere di Berlusconi con Salvini, con la Meloni o di Renzi al suo interno e la Boschi sì e la Boschi no, ma quelle sono tutte litigate sul potere, le questioni vede, cioè le necessità delle persone, quali sono? Chi si interessa del bisogno reale di una famiglia che non arriva a fine mese? Che ci frega a noi di chi sarà il premier tra Salvini e Berlusconi o se la Boschi si candiderà o no? Quelle sono le discussioni che leggiamo sui giornali oggi, ma non sono di interesse alcuno per le famiglie, le famiglie vogliono sapere come arriveranno a fine mese, come il figlio disoccupato troverà lavoro, come la ripresa economica forse genererà posti di lavoro e noi con il reddito di maternità faremo nascere la ripresa economica, questi sono gli interessi reali, noi ci facciamo sopra riflessione, ci facciamo sopra incontri che se hai seguito bene la vicenda delle ciminiere sono incontri densi, in cui parlano le persone, in cui poi si alzano in piedi e danno le loro impressioni, sono nottate che durano ore, perché tutti hanno qualcosa da dire, per noi è arricchente ogni tappa di questo infinito tour che mi porta a avere i messaggi che ho letto ieri durante la diretta di mia moglie che mi scriveva, bravo che continui a parlare di famiglia, ricordati che ne hai una, è sempre giusto, adesso per Natale cercherò almeno di stare in famiglia e il dato bellissimo è sapere che per tutta questa regione, da Palermo a Messina, a Catania, ad Avola, a Grigento, la provincia di Laura, della moglie di Nicola c'è un calore umano estremo e insieme un estremo bisogno, ti chiedono di fare qualcosa davvero e fare qualcosa davvero non è discutere di potere, non è discutere di chi farà il premio o di chi si candiderà in quel collegio o in quell'altro, vuol dire scrivere delle ricette, scriverle perché quando scrivi c'è un impegno, io ho fatto un libro perché poi domani se non faccio queste cose tu vieni col libro davanti a me e dici tu mi hai detto che io ti devo votare per questa roba qua, perché non hai fatto più niente? E allora se io dico che vado nel Consiglio dei Ministri semmai andrò in maggioranza di governo per fare il primo giorno il reddito di maternità con un decreto legge, tu il secondo giorno mi puoi venire a dire perché non sei andato in Consiglio dei Ministri e non hai fatto il decreto legge? E io vi giuro che se non ci sarà la possibilità di fare il decreto legge in Consiglio dei Ministri non ci vado, molto semplicemente. E noi faremo questo lavoro, lo faremo concretamente incontrando le persone in tutti questi mesi, Nicola stando in Sicilia fisicamente e insieme a tutto il Movimento del Popolo e la Famiglia in Sicilia, io lavorando in tutta Italia e cercando di fare con te Antonella il lavoro che va fatto, perché io faccio il tuo messiere, faccio il giornalista, la prima cosa è informare, far sapere agli italiani qual è la condizione e cosa si può fare per cambiarla. Il resto, fare da eco ai battibecchi dei politici e dei politicanti, non serve a nulla, serve a loro, ma non alle famiglie, ai bisogni veri del popolo italiano. Sono d'accordo con te. Una cosa che ho notato ieri nella vostra bandiera, il popolo e la famiglia, c'è un sottotitolo, no gender nella scuola. Ce lo vuoi spiegare? Diciamo che nasciamo per che cosa? Anche per questo motivo, perché abbiamo visto che nelle scuole si arriva a indottrinare i nostri bambini a determinate ideologie, che non è più quello di una cultura, ma di una ideologia, che è quella di portare libricini che non sono così consoli nelle nostre scuole. Quindi l'abbiamo visto a Roma, addirittura l'altro giorno parlavo con gli amici di Palermo, è successo anche a Palermo questo fatto di comprare questi bambini dove si spiegava che due papà vanno a comprare il semino, eppure due mamme vanno a comprare il semino in Olanda e bla bla bla, quel libricino che poi alla fine è un libricino che questi nostri figli, penso che è un obbrobbio leggere queste cose, ma bensì un bambino nasce da un papà e una mamma, questo è fondamentale, no? Perché si possa non far vedere ai nostri figli che poi vanno a indebolirli, che un bambino può nascere anche da due mamme, è meno impossibile questo, perché questo qui noi non lo accettiamo, oppure in alcune scuole c'è stato il travestimento dei bambini, abbiamo delle realtà che sono successe a Roma, a Treviso, in altri posti che comunque hanno mandato a casa maschietto vestito da femminuccia e la femminuccia vestita da maschietto, magari anche con il rossetto al bambino, quindi queste cose non le accettiamo, difenderemo i nostri figli fino alla fine e porteremo i nostri figli sempre e solo perché loro non hanno voce, quindi noi abbiamo voce e grideremo che i bambini non si toccano come non si tocca la famiglia. Su questa affermazione andiamo in pubblicità, ci rivediamo subito dopo. A dopo. Tecna Saloon Shop, professionalità, esperienza e cortesia al vostro servizio. Eleganza in un ambiente confortevole che avvolge il cliente in una nuvola di glamour e gradevoli essenze. Uomini e donne troveranno i principali servizi di haircare, estetica e consulenza beauty sui prodotti presenti nei nostri saloni di bellezza. Ci potete trovare presso il centro commerciale Etnapolis, Valcorrente e a Belpasso in via Giovanni Falcone 41. Per info o prenotazioni telefonare allo 095 78 67 331 o allo 095 91 76 77. Per la tua pubblicità su Globus Television chiama il numero 349 144 3134. Nuovamente in studio qui con me c'è Mario Adinolfi e Nicola Di Matteo. Mario hai creato un nuovo, qualcosa di nuovo, una tua creatura diciamo così, stavamo dicendo proprio questo e adesso che scommesse ci saranno? La scommessa delle elezioni politiche è la più importante, la più alta, presentarsi in tutta Italia, è uno sforzo anche organizzativo molto importante e fa capire che in realtà non ho creato io nulla, c'è un popolo che sta accompagnando un percorso perché non lo fai da solo, è impossibile immaginare appunto che da Cuneo fino a Trapani riesci a presentare liste ovunque dovendo raccogliere firme, dovendo raccogliere candidature, vuol dire che c'è un popolo che si sta muovendo, io cerco di fare quello che posso, cioè raccontare nella dimensione mediatica prevalentemente le nostre istanze e poi di andare fisicamente nei territori per incontrare le persone, io sono convinto che nonostante abbia una buona occasione di visibilità attraverso i media, chiamiamoli tradizionali o anche attraverso i social network, poi nulla valga come l'incontro tra persone, cioè ieri ci siamo visti alle ciminiere qui a Catania e secondo me stare insieme alle persone rende tutto più forte, più evidente, crea quella solidarietà anche umana che io chiamo amicizia alla fine, che riesce a costruire la dimensione diversa del popolo della famiglia, il popolo della famiglia è un grandissimo gruppo di amici, vastissimo ormai che conta migliaia e migliaia di militanti sul territorio che già presentandosi in appena 35 comuni hanno raccolto oltre 96 mila voti e che può ambire su 8 mila comuni d'Italia a raggiungere un traguardo che è quello del milione di voti che ci siamo proposti per le prossime elezioni politiche. Io credo che tutto questo possa nascere solo dal fatto che noi ci siamo incontrati fisicamente, ci siamo incontrati sì anche in grandi occasioni di piazza come San Giovanni e come il Circo Massimo, ma una piccola riunione serale come quella delle ciminiere di ieri o come quella che andrò a fare tra poco ad Avola ha un sapore tutto diverso, quindi per me e per tutto il movimento è fondamentale l'incontro. Se incontri questo messaggio, se incontri questo simbolo, se ti chiedi perché c'è un simbolo che mette una mamma e un papà con due figli sul simbolo della propria formazione politica e non sono più simboli astratti o gigli o foglioline, ma sono persone, persone. È l'unico simbolo dell'intero panorama politico che ha al centro le persone e allora ti fai una domanda. Se poi ci incontri quella domanda trova una risposta e io penso, l'ho detto sempre, chi è venuto ai Family Day e viene a incontrare il popolo della famiglia incontra l'Italia migliore, incontra l'Italia che fa la fatica tutti i giorni di portare avanti un progetto di vita valoriale perché dentro una famiglia c'è sempre un progetto valoriale con le difficoltà e le debolezze di ciascuno perché siamo tutti uomini e capaci di cadere e cadiamo e facciamo errori, ma allo stesso tempo se siamo dentro quella dimensione, la nostra dimensione ha un qualche livello di valore che altre dimensioni non hanno. Dentro quella dimensione c'è una fatica enorme, enorme, perché noi dobbiamo sempre ricordare chi è che si fa carico di 3,8 milioni di disabili in questo paese. La disabilità è tutta assegnata allo sforzo e alla fatica che fanno le famiglie. Se un anziano non ce la fa più, se il nostro padre, la nostra madre non ce la fa più, chi si fa carico di quella difficoltà ad andare avanti? La famiglia. Se un nostro figlio non riesce a trovare occupazione, chi si fa carico? Allora dico se tutto è addosso alla famiglia, perché la famiglia non viene mai aiutata? Quando noi diamo la risposta nell'incontro personale su questi elementi e diciamo battiti con noi affinché questa cosa cambi, se li incontriamo faccia a faccia è difficile che pensino che noi siamo insinceri, perché lì in quelle ore che trascorri parlando con le persone la tua sincerità viene misurata, i tuoi occhi vengono misurati, vedono e cercano di capire quanto tu ci credi nelle cose che stai facendo. Questo cambia tutto, questo secondo me è l'ingrediente che noi che non abbiamo la platea, non andiamo a porta a porta tutte le sere, non andiamo dalla tua collega Lilli Gruber, tu sei molto più brava, te l'ho detto, sai l'ho detto fuori onda, quindi sono testimoni gli tecnici lì dietro. Noi non abbiamo quei palcoscenici tutti i giorni, come abbiamo deciso di supplire a questa mancanza? Andando a parlare con le persone, non mi dai una platea da 5 milioni, c'è Emma Bonino che vada a Fabio Fazio e fa vedere un simbolo grande così? Io non ce l'ho Fabio Fazio che mi intervista e mi dà mezz'ora di intervista col simbolo grande così. E allora vado e vado a incontrare però i milioni di persone giorno dopo giorno, strada per strada. Voi fate di strada da favola. Dicci, dì l'altavoce, dì. È più alta di Lilli Gruber. No, usciamo dalla televisione paludata. Giuliana Avila di Stefano, nostro portavoce in territorio siciliano, dice che Antonella è più alta di Lilli Gruber. Così adesso 8 e mezzo non ci andrò mai più. Verrate Antonella a voi. Ma va invitato Lilli, però adesso è finito. Mario ascoltami, nel 46 subito dopo c'è stata la fondazione della Repubblica, i partiti politici, gli uomini politici, i leader incontravano le persone, avevano il contatto diretto. Poi a un certo punto tutto è cambiato. Sì, è cambiata l'idea, io voglio dire anche della politica come luogo di soluzione degli interessi del popolo. La politica oggi è diventata luogo di soluzione degli interessi dei politici. Allora quei politici non hanno interesse a incontrare il popolo, molto semplice. Se tu devi curare solo i tuoi interessi, il tuo passaggio, il passaggio elettorale deve essere un passaggio formale. Visto che leggi elettorale che hanno fatta, non si vota la preferenza, non si vota niente, fai liste bloccate, eleggi quelli che stanno lì, non puoi fare nulla. Perché? Perché devi soluzionare i problemi dei politici, non i problemi delle persone. Allora non li devi incontrare le persone. Perché i politici hanno paura adesso. Avete visto le contestazioni ogni volta che arrivava una tappa del treno di Renzi? o le contestazioni che riguardano, anche Salvini se viene qui in Sicilia al sud o sicuramente in campagna ha avuto consensazioni pesantissime. Perché? Perché nel momento dell'incontro con le persone, le persone dicono al leader che vedono sempre in televisione, ma tu per me cosa hai fatto? La verità è, tu per me cosa hai fatto? Che fatica fai tu dalla mattina alla sera a fine mese? Tu come te la cavi? Te la cavi strabene perché il sistema politico ti garantisce. E io che ho fatto parte, perché io sono stato anche parlamentare, so perfettamente come funziona quel meccanismo. Tant'è che a un certo punto nella mia vita me ne sono voluto distaccare uscendo da quella dimensione e rinunciando a una carriera che era abbastanza tranquilla. Ero deputato di prima legislatura, quindi potevo tranquillamente seguire quel percorso ricandidando. Mi ho scelto di non ricandidare. Mi riscriveva un piccolo libro che allora si chiamava voglio la mamma e ora quattro anni dopo o capiamo moriamo per spiegare le ragioni per cui la militanza può esistere. È un elemento nel nostro DNA quello di essere animali politici come diceva Aristotele. Ma è fondamentale farlo per una ragione. Se la ragione è semplicemente quella dello sbarcare il lunario, se il politico fa il politico perché deve trovare, altrimenti non lavorerebbe, diciamo così. È ovvio che poi quando arriva lì si arrocca e l'unica cosa che vuole fare è tenere quel privilegio. Delle soluzioni reali ai problemi dei cittadini non gliene frega niente. Purtroppo l'esperienza di decenni di governo siciliano, lo sapete, ha prodotto questo tipo di situazioni. Politici che si occupano dei fatti loro e popolo siciliano che invece si deve arrabbattare dalla mattina alla sera. O fuggire. Per cercare, oppure andare via. O fuggire. Oppure andare via, come diceva Nicola Di Matteo, oppure andare via da questa terra. Perché la cosa tremenda è che i giovani non nascono più. Perché i bambini non nascono, capiamo, moriamo, hai dei dati di denatalità che vengono spiegati, se sono terrificanti. Quei pochi che nascono in questa terra vanno via. Così tu costruisci il deserto e se nel deserto poi si infila un'invasione che arriva da fuori, attenti perché quello che siamo oggi non lo saremmo più domani. E questo secondo me è una perdita enorme per ciascuno di noi. Certo. Ius soli, ius soli temperato, ius soli culture. No, no, ius soli, molto semplicemente. O meglio, ius soli noi l'abbiamo già applicato. Noi ci sono arrivati, sulla vostra terra arrivano centinaia di migliaia di persone, dalla Nigeria, dal Ghana, dal Senegal, perché diciamoci la verità, non arrivano a zone di guerra. Prevalentamente attraversano il deserto del Niger, arrivano in Libia e sbarcano in Sicilia. Questo è il meccanismo. Tito Boeri dice che siccome non nascono più i bambini mi devo portare due milioni di persone che arrivano da queste terre. Ora bisogna capirlo con chiarezza. Se io porto due milioni, e ne sono arrivati purtroppo già tantissimi, dalla Namibia, dal Niger, dalla Nigeria, dal Senegal, dal Ghana, cosa sto importando sul territorio? Sto importando manodopera a basso costo. Se io importo manodopera a basso costo, il primo elemento inevitabile è l'impatto sul mercato dei salari. Vuol dire che un giovane che cerca lavoro lo troverà parametrato a un lavoratore del Gambia. Tant'è che mia figlia che adesso ha 22 anni e finisce la laurea. Trova solo degli stage con rimborso di 300 euro. Perché il primo impatto è sul mercato del lavoro. Non c'è niente di razzista. È semplicemente l'analisi di fatti. Io dico non lo Ussoli, ma in realtà lo Ussoli l'abbiamo già approvato perché 800 mila passaporti li abbiamo dati negli ultimi 4 anni. Quindi noi facciamo molto di più di quello che fanno Francia e Germania, dove c'è la metà, noi abbiamo la metà della popolazione straniera residente, loro hanno il doppio degli stranieri e danno la metà dei passaporti. Noi invece abbiamo già dato le cittadinanze. La verità è che noi abbiamo fatto figli, in tre anni abbiamo perso un milione di italiani nel saldo nati morti certificato da Istat e abbiamo sostituito questo con 800 mila passaporti tra gli stranieri. Allora, questo tipo di dinamica è una dinamica che produce il deserto e l'occupazione della nostra terra. Se tu perdi un milione di italiani ogni tre anni, vi è chiaro che la demografia è una scienza esatta, fa 30 anni gli italiani non esisteranno più, sarà una terra occupata, invasa. Noi dobbiamo far di tutto affinché invece tornino a nascere i nostri figli, tornino a essere popolati dalla nostra terra, i nostri lavoratori siano rispettati nella dignità del loro salario e non si vada a parametrare il salario dell'italiano a una dimensione di un salariato del Gambia che ovviamente non conoscendo Stato sociale, non avendo nulla, accetta di tutto. E noi dobbiamo assolutamente difendere le nostre colonne del welfare. Se non difendiamo le colonne del welfare, per noi si abbatte la storia anche dello Stato sociale come abbiamo immaginato sempre in questi decenni e apriamo una stagione di povertà vera per tutto il popolo italiano. Purtroppo secondo me stiamo scivolando già in questa direzione in maniera inevitabile. Nicola, oggi c'è Avola, domani cosa succede? Domani io mi trovo a Trapani e il 24 vado a Gela, quindi ho degli amici che mi aspettano per costruire ancora di più e radicare il territorio siciliano perché comunque hanno capito che potremmo essere veramente l'alternativa a questa Sicilia, a quest'Italia, che è fondamentale perché questi amici sentono l'esigenza di entrare a far parte di un movimento, un movimento che abbia delle radici, radici cristiane, che questo è fondamentale perché ci porta a uscire da degli schemi che sono quelli di una politica, come diceva il nostro presidente Maria Di Nolfi, che è solo per la poltrona. Noi invece lo facciamo come un servizio che poi qui in Sicilia abbiamo il nostro caro Sturzo che ci dava e ci faceva un grande insegnamento che la politica possa essere carità, possa essere carità di servizio e di spirito per questo territorio, per questa nazione, quello che si è perso e si pensa soltanto ai propri affari, quindi alle poltrone e come sistemare l'amico o l'amico di chi. Noi saremo altro, quindi gli amici stanno capendo anche in Sicilia che vogliono aderire a questo movimento per costruire una nuova politica. Grazie, grazie Maria Di Nolfi, grazie Nicola Di Matteo, non ci vediamo subito dopo con una nuova puntata. Ciao, vi saluto, ciao.